Ed ecco, adesso in questo momento, proprio in questo momento, siamo al polmone, al polmone. Il chiaguante. Oh, guarda, c'è l'ho. Ha tagliato il filo, con i denti. Con i denti ha tagliato il filo. Oh, c'è che bella. Oh, è un'estima minucinnendi, che c'è? Oh, è un... Tu che temo, tu? Mi scanto. Mi scanto, io, fa. Che? Mi scanto. Che cazzo ne ha a fare, questo serrano? Aspetta un attimo, un attimo di pazienza, che vi faccio vedere. Tequila! Tequila! Ancora non so visto, eh? Vi faccio vedere che cosa appena... Che cosa faccia fare? Che cosa faccia fare? Che cosa faccia? Quello che fa? È infatti, è durissimo. Ma che cosa faccia? No! Ma non c'è fa... Ma non c'è fa... Che bello di terra, da qualcosa di... Ma non c'è fa! una mustia di 3 kg una bella mustia me la faccio a porno mi chiamai che piglia roppo c'era non sapia se voleva roppo non sapia se voleva roppo e chi l'ho ma tu chi l'acce moriamo a polmone a dopo a dopo